Letta dice che le priorità della sinistra sono lo use soli per gli immigrati e permette di coltivare e droga in casa La droga è mera asterisco asterisco e morte, io la combatto finché campo Una sinistra che parla del diritto di drogarsi non ha il diritto di governare questo paese Noi vogliamo un paese libero, sicuro e che premia il merito e il lavoro Per Letta le priorità sono gli immigrati e le droghe, per me sono le pensioni e il lavoro degli italiani Sono le parole di Matteo Salvini pronunciate durante un comizio elettorale Un attacco quindi al programma del centrosinistra per poi ribadire che le priorità del suo partito sono in prima istanza il lavoro e le pensioni Soprattutto nel meridione, per me centrale è il lavoro soprattutto al sud Non i bonus, gli aiutini, ma il diritto al lavoro e le infrastrutture Il leader del carroccio ha quindi toccato un altro tema di dibattito politico di questi ultimi giorni Quello del diritto all'aborto, riportato sulle prime pagine dei giornali da un post di Chiara Ferragni che attaccava fratelli d'Italia Sottolineando come nelle marche sia diventato praticamente impossibile abortire L'ultima parola spetta alla donna Cancellare la 194 non è nel programma della Lega Semmai noi vogliamo migliorarla, aiutando ancora di più i centri di aiuto alla vita Ma l'ultima parola spetta alla donna Non penso che sia lo Stato a poter negare alla donna la libertà di scegliere sul suo corpo e sulla sua vita Quindi stia tranquilla alla Ferragni che se sceglie la Lega non ci sarà nessun ritorno indietro Non penso che sia lo Stato a poter negare alla donna